web tv studios ci troviamo con un'altra fanciulla tuo nome maria pia maria pia dove ci troviamo in questo stand come si chiama dove stiamo motos day a roma perfetto allora illustraci ti vedo seduta su questa moto illustraci un po quello che propone lo stand lo stand propone ovviamente moto della onda e anche auto anche se qui principalmente abbiamo solo le moto e poi vabbè gli abbigliamenti giubbini queste cose qua per chi va con le moto ti piace questa fiera il moto days ti piace ti stai divertendo sì 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 già sto facendo diciamo furore figuriamoci sabato e domenica che cosa succederà perfetto allora facciamo un saluto agli amici della web tv studios ciao a tutti aggiungetemi su facebook maria pia de meo web tv studios ciao a tutti ciao a tutti